Buonasera a tutti, datemi un feedback in chat se sentite la mia voce cortesemente. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TIC1000, danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TIC1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge, per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dei relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio. Il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono accedere all'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è presentato come sempre da me, Giuseppe Cericola, country manager Italia di TIC1000, come per gli ultimi due appuntamenti del Training Talent Show Coaching Marco D'Andrea. Prima di entrare nel vivo della strategia che Marco questa sera ci presenterà, vi faccio vedere alcune cose. Sicuramente sapete che dal primo agosto entrerà in vigore l'ESMA, quindi le nuove disposizioni saranno attive dal primo agosto. Per mantenere la leva, quindi non subire l'abbassamento della leva a 30, attualmente l'unica possibilità con TIC1000 per mantenere appunto questa leva è richiedere il passaggio a cliente professionale. Come si fa? Adesso io vi faccio vedere come si effettua e si compila il questionario che trovate all'interno dell'area clienti, quindi andando sul sito di www.ticmil.com, poi cliccando su TIC1000 Regno Unito, quindi dell'area cliente dedicata ai clienti europei, poi effettuate il login e appare questo pop-up dove vi chiede appunto se volete mantenere la leva di inviare la richiesta come cliente professionale. Cliccandoci sopra, magari lo metto in italiano, c'è il format da compilare, sono tre domande. Una è la panoramica delle due transazioni significative, quindi mi verrà chiesto il numero medio di operazioni significative effettuate per trimestre durante l'ultimo anno, è stato superiore a 10, sì o no? Quindi per operazione significativa si intende 4 mini lotti per operazioni, quindi in totale sono 10, quindi sono 4 lotti per trimestre. Se avete negoziato un volume del genere nell'ultimo trimestre, allora potete mettere su sì. Panoramica del tuo portafoglio di investimenti finanziari, bisogna avere un portafoglio di investimenti quindi non sul conto trading, ma come investimenti generali in cui rientrano anche immobili che però non siano sulla prima residenza, quindi deve essere superiore o maggiore a mezzo milione di euro. Anche qui vi viene chiesto se sì o no. Poi c'è l'ultima domanda che è sulle esperienze lavorative per assicurarsi che sappiate gestire comunque i prodotti a leva, quindi vi viene chiesto se nell'ultimo anno avete lavorato, se almeno per un anno avete lavorato in una posizione finanziaria, tale da consentirmi una conoscenza dei prodotti finanziari in leva. Anche qui viene chiesto se sì o no. Un'ultima cosa, quindi poi ovviamente andate anche a vedere i vantaggi di diventare un cliente professionale, ma anche quelli che sono le protezioni che si andranno a perdere come cliente professionale. Quindi sulla nostra area clienti è spiegato un po' tutto, poi c'è anche una sezione dedicata alle FAG dove trovate sempre sul sito di TIC1000. E da qui trovate proprio le disposizioni ESMA. L'ultima cosa che voglio aggiungere è che TIC1000, grazie agli ultimi risultati attenuti nel 2017, è riuscito ad ottenere altre condizioni migliori dai propri liquidi provider, quindi sui conti VIP abbiamo abbassato la commissione portandola a un dollaro per ogni 100.000 negoziati. Poi chi ovviamente ha raggiunto un saldo minimo di 50.000 attraverso il deposito, comunque facendo training, può già usufruire di queste condizioni che attualmente sono improbabili nel settore dell'industria Forex. Allora, io ho terminato la mia presentazione di TIC1000, adesso passo lo schermo a Marco. Vediamo se ci riesco. Marco, tu riesci a prendere lo screen? No Giuseppe, ancora non mi è arrivato un messaggio di passaggio schermo. Ok, ora sì. Vedi adesso? Perfetto. Sì, vediamo il tuo schermo, ok. Perfetto, allora aspetta che vada avanti con le slide della presentazione del broker che giustamente hai fatto tu in maniera eccellente. Allora, questo diciamo è la lezione quella che è di oggi, fondamentalmente è il trading talent show coaching per quanto riguarda la seconda parte delle tecniche. La prima l'abbiamo già vista l'altra volta, poi Giuseppe vi mostrerà un po' di operazioni. Comunque, intanto mi scuso che non ne ho fatta nemmeno una io sul conto perché, vi dico la verità, sono stato un po' incasinato questo periodo, non sono riuscito a copiare l'operatività totale proprio sul conto. Come però dicevo... Non è un problema Marco. Sì, no, assolutamente... Questo però lo vediamo nel secondo appuntamento, cioè quello del 2 luglio. Quindi chi si è iscritto adesso già potrà poi vedere, sarà già iscritto in automatico sull'altro e in quel caso faremo vedere le operazioni che ho fatto io sul conto trading dedicato. Probabilmente ho commesso anche qualche errore e Marco poi appunto le vedremo insieme in modo tale da entrare nel merito del... Sicuramente commettere errori comunque fa parte del trading discrezionale perché comunque nei casi il PC diciamo non riesce a commettere errori e a rimanere diciamo preciso con la strategia, mentre in linea generale con il trading discrezionale a volte si fa peggio ma altre volte si può anche ottimizzare un pochettino quelli che sono i parametri perché magari riusciamo noi a vedere una conformazione che il PC avrebbe trattato comunque... No, ma credo che sia stato proprio un problema mio di apprendimento della tecnica, soprattutto sui primi, però comunque dico che sono in guadagno, nel senso che comunque... Questo mi fa molto piacere, ovviamente lo sono anch'io insomma in generale qualche stop si prende insomma assolutamente non c'è problema Comunque la differenza proprio che sta nel trading discrezionale e quello meccanico è proprio appunto che... Cioè nel senso che ci sono comunque degli stop che magari qualcuno prende di più, altri che prendono di meno, ci sono degli stop che non per forza sono dati dalla tecnica ma magari anche da noi stessi che magari abbiamo interpretato male quello che potrebbe essere un pattern Oppure abbiamo, come diciamo qui, visto fischi per fiaschi e magari abbiamo sbagliato insomma l'ingresso, cioè può capitare ma così come anche non sbagliamo nulla, comunque gli stop si prendono Comunque quello che ci tenevo a dire è che sul conto dimostrativo che abbiamo messo, semplicemente lo facciamo a mo' di scuola, cioè l'obiettivo non era guadagnare un qualcosa o perdere un qualcosa o restare pari Ma semplicemente avere degli esempi proprio per dimostrare la bontà della tecnica che è praticabile, fattibile, Giuseppe ci è riuscito tranquillamente e vi dico che non ci siamo sentiti in questo periodo con Giuseppe Quindi ha fatto completamente in autonomia ed è stato bravissimo perché comunque ha applicato quelle che sono quelle poche regole e è riuscito comunque a portare dei profitti in generale Quindi come ci è riuscito lui ci può riuscire chiunque, questo diciamo è l'obiettivo che è stato in questo caso raggiunto da parte, bene o male, di chi ha insegnato, di chi ha appreso e ha messo in pratica E' quello che mi auguro insomma che abbiano fatto anche chi ci sta ascoltando in generale La tecnica che andiamo a presentare oggi fondamentalmente ha la stessa struttura della precedente, l'unica cosa che è applicata a dei mercati differenti Che oggi andiamo a vedere le commodities, facciamo un piccolo cappello alle commodities in generale che sono a mio avviso rispetto al forex Diciamo un mercato molto più interessante perché comunque trovare un edge sul forex, l'abbiamo già detto in tutte le salse, è veramente difficile Comunque si trova un edge piuttosto piccolo quindi che dà un rendimento percentuale più contenuto e soprattutto non vi è garanzia di durata Per il semplice fatto che comunque ho studiato che gli edge trovati sul forex durano molto meno rispetto a qualsiasi altro mercato E ovviamente ce ne sono altre tipologie Sulle materie prime in linea generale ci sono invece dei veri e propri bias ovvero delle abitudini che il mercato sviluppa per un qualcosa che riguarda il suo sottostante Facevamo l'altra volta l'esempio del gas naturale che sappiamo che il gas naturale è trattato al mercato di Chicago Quindi si prende per esempio il gas naturale prodotto in America e in America i picchi di utilizzo di questa materia prima sono innestati in inverno Quindi è normale che lì si avrà spesso e volentieri una stagionalità a favore Ovviamente come ad esempio nelle materie prime agricole il raccolto si fa in un unico periodo dell'anno Quindi in quel periodo là ci potranno essere dei picchi sul grafico e comunque nei casi c'è sicuramente una probabilità maggiore al 70% Il più delle volte quindi avere un age al 70% significa abbattere il mercato per il 40% Perché comunque nei casi si supera il 20% la parità e quindi se noi abbiamo una probabilità a favore del 70% vuol dire che le probabilità a sfavore sono del 30% E quindi il vantaggio sul mercato è di circa il 40% che non è poco cioè anzi assolutamente è qualcosa che è veramente di favoloso insomma in generale E questo lo ritroviamo sulle materie prime Ovviamente il motivo per cui ho scelto il VTI perché comunque ho delle tecniche comunque anche su altri tipi di materie prime ma che comunque nei casi non andiamo a trattare oggi in linea generale Sfruttiamo un pochettino quelle che sono le potenzialità del broker della piattaforma perché comunque lo spread come lo imposta Tickmill e l'operatività sul VTI non ce l'ha nessuno Quindi in linea generale abbiamo oltre ad avere un buon vantaggio a livello diciamo di tecnica abbiamo anche comunque un ottimo partner con cui metterla in pratica Perché possiamo avere anche la tecnica migliore ma se il broker di riferimento ci applica uno spread troppo ampio o dei costi commissionali che non sono congrui il nostro vantaggio è generoso E alla fine non siamo più profittevoli insomma sul lungo periodo perché ovviamente il nostro discorso è sempre relativo al lungo periodo Cioè non ci interessa guadagnare oggi o domani ma avere una costanza nel tempo insomma settimanale, mensile, trimestrale insomma dipende come vogliamo Quindi dal punto di vista quindi il primo vantaggio che hanno le materie prime è proprio appunto di avere un bias quindi una caratteristica insita che gli altri strumenti non hanno La seconda è data fondamentalmente da una struttura di book il VTI che comunque dei casi TICMIL produce come CFD altro non è che la copia esatta del suo derivato quindi del suo futures che è inteso come con la lettera CL crude oil Quindi o guardate quello o guardate il VTI è la stessa identica cosa Ci potrebbe essere qualche TIC di differenza dovuti appunto al calcolo dello spread che sul futures non c'è mentre sul CFD ci sta Qual è il vantaggio ovviamente del CFD? Che se dovete tradare il futures del petrolio è uno strumento pesantissimo Quindi ci vuole una fortissima capitalizzazione e per fortissima capitalizzazione parlo almeno dagli 80-100 mila euro a salire per muovere un contratto E non c'è la possibilità comunque di frazionarlo Mentre con TICMIL abbiamo la possibilità di frazionare il lotto anche allo 0,01 dove sul lotto minimo ogni TIC che comunque dei casi ogni punto di petrolio sono 100 TIC Quindi ogni TIC vale 10 centesimi di dollaro quindi comunque qualcosa di gestibile comunque dei casi con molti meno soldi insomma rispetto al futures E con il grafico identico perché comunque dei casi la qualità di un broker si stima anche da quello insomma dal fatto di poter replicare al massimo quello che è il suo sottostante di riferimento Sul petrolio quindi oltre ad avere appunto questo genere di caratteristiche quindi oltre ad avere un bias oltre ad avere comunque dei casi la possibilità di utilizzare un CFD molto valido di qualità C'è la terza caratteristica che riusciamo a sfruttare molto bene che è una caratteristica data dal BUC Perché studiando il posizionamento diciamo degli investitori sul petrolio notiamo che in linea generale il petrolio è una materia prima che viene utilizzata da quelli che vengono detti commercial Ha fondamentalmente come copertura ovvero chi è che diciamo l'investitore istituzionale che compra o acquista petrolio semplicemente sono quelli o che vanno a copertura contro il dollaro o quelli che vanno a copertura sull'attività commerciale Non so se ricordate le altre volte io dicevo sempre il nostro contadino che ha il campo di arance fondamentalmente come può mantenere fisso il suo stile di vita e quindi la sua qualità della vita al suo reddito vendendo solo arance Si va a coprire con lo strumento finanziario la copertura di strumento finanziario prevede due giochi fondamentalmente se l'attività finanziaria va bene vuol dire che è andata male quella commerciale Ma se l'attività commerciale va bene vuol dire che l'attività finanziaria va male ovviamente lo spread di differenza tra l'essere andato bene di una parte e l'essere andato male dall'altra dà comunque dei casi quello che è la stabilità del reddito del commercial quindi il commercial non è uno speculatore ma è semplicemente uno che utilizza questo strumento per coprirsi Quindi dove sta il vantaggio dello speculatore che in questo caso potremmo essere noi piccolini come potrebbe essere uno speculatore più grande quindi magari un fondo age Essere la controparte del commerciale perché se il commerciale punta ad andare bene sull'economia reale non gliene frega nulla di andare bene sulla parte finanziaria Quindi lui perde volontariamente sulla parte finanziaria e noi essendo parte o totalmente parte della sua scusate il gioco di parole della sua controparte siamo la parte vincente in generale E quindi questo è il terzo vantaggio che fondamentalmente possiamo avere tradando le materie prime e in questo caso il petrolio perché spesso e volentieri i grossi investitori che muovono questo mercato non lo muovono per interesse speculativo ma per interesse di copertura Quindi noi muovendoci come speculatori in questo caso andiamo fondamentalmente a massimizzare quello che fondamentalmente è il vantaggio statistico a mercato Non so se è chiaro il concetto Giuseppe interrompimi pure se ci sono delle domande Sì sì assolutamente, no no adesso tu dove prendi queste informazioni sul cot report in base ai commersi? Allora in realtà no, le guardo direttamente spesso e volentieri anche dal book perché comunque dei casi mi accompagno spesso anche da una piattaforma dove ci sono gli scambi insomma reali e li guardo anche da lì in linea generale Sul cot report fondamentalmente abbiamo il posizionamento dei grandi investitori però tu non sai se quel grande investitore è un fondo hedge o è un commercial Sai semplicemente che è entrato pesantemente su un determinato livello, punto e basta però tu non puoi sapere se quello è un commercial e quindi agisce a copertura O se è comunque dei casi un hedge fund quindi che agisce per speculazione Quindi in linea generale non potendo fare questa distinzione che comunque dei casi è come dire uno che viene dall'America e l'altro che viene dalla Cina Quindi proprio due mondi completamente differenti sia in modo di ragionare e di applicarsi Queste cose oltre dal cot report che ti dà a mio avviso un quadro generale ma sommario non analitico Le puoi vedere soltanto dal book e ovviamente dal book intendo guardare i volumi che vengono scambiati all'interno di quel mercato Perché se voi andate a osservare, prendiamo il CFD di Tickmill, vediamo che il petrolio all'ora X del giorno Y ha fatto una sparata Non è che l'ha fatta così, sono entrati dei grossi volumi Quindi in quel momento vado ad aprire la piattaforma parallela dove vengono fatti gli scambi ufficiali Puoi anche non ruminarla, non è un problema No, vabbè, ma comunque dei casi ormai alcuni sono gratuiti, c'è pure sul sito di investing.com, in linea generale Vuoi dare un'occhiata ai volumi, perché tanto è solo un filtro, cioè non è che mi basso su quelli In linea generale mi serve a capire se comunque dei casi quel determinato movimento è stato dovuto da una notizia O se è dovuto comunque dei casi da qualcuno che è entrato pesantemente In quel caso lì, se qualcuno è entrato pesantemente, vuol dire che comunque dei casi è andato a coprirsi Quindi è entrato lì un commercial Se invece il movimento è supportato da una notizia, lì invece è entrato lo speculatore Perché comunque dei casi è andato a speculare o a prendere posizioni su una determinata notizia Vi faccio un esempio Se comunque dei casi esce fuori, che ne so, la notizia dell'OPEC o comunque dei casi di alcuni grossi, diciamo, attori di mercato Che comunque dei casi o comunque alcune istituzioni che decidono, che ne so, di stabilizzare il prezzo del petrolio Oppure dicono che per quest'anno il prezzo del petrolio al barile è troppo basso È normale che tutti gli speculatori, anche i più grandi, cominceranno a prendere pesantemente delle posizioni Scalando, quindi facendo uno scaling out al rialzo Cioè uno scaling in, scusate, al rialzo In modo tale da creare una sorta di portafoglio Al fine comunque di strutturare una posizione che portano avanti per mesi in generale Tenendo presente che comunque una posizione sul petrolio la puoi tenere al massimo per quattro settimane Dopodiché vanno rollati, diciamo, i futures e quindi bisogna cambiare la posizione Ecco, un altro vantaggio che dà Tickmill Che abbiamo un grafico continuous, quindi noi non siamo soggetti a rollare la posizione Ma possiamo prendere una posizione e tenerla aperta anche per due o tre mesi Volendo, per chi vuole fare magari un trading di più lungo periodo Perché comunque dei casi, sempre parlando della struttura del petrolio, è transfollowing Quindi quando comunque dei casi si avvia un movimento Questo lo si mantiene per diverso tempo E anche già guardando il grafico in H4 o giornaliero Comunque si riescono a prendere svariate figure di guadagno Quindi in linea generale non è sbagliato fare trading di lungo periodo sul petrolio L'unica cosa è che anche lì bisogna essere abbastanza capitalizzati per mantenere la posizione Perché essendo uno strumento transfollowing, come tutti gli strumenti transfollowing Ha dei ritracciamenti piuttosto importanti Che sono, diciamo, come posso dire Sono, diciamo, commisurati agli impulsi Quindi se voi avete impulsi del petrolio di, che ne so, di 400-500 tic È normale che vi può fare anche dei ritracciamenti di 200-250 tic Quindi 200-250 tic di petrolio sono due figure e mezzo Sono comunque dei casi tanta roba Cioè in linea generale è un ritracciamento che se preso contro Comunque dei casi vi fate male parecchio E quindi in linea generale bisogna sapere gestire bene lo strumento Con un'adeguata capitalizzazione Che ovviamente si gestisce abbastanza bene con il CFD Perché non ne serve poi così tanta Dicevamo prima appunto che Oddio qua ho sbagliato a scrivere che non sono cambi valutari Ma ovviamente sono materie prime Ovviamente VTI e CL Il VTI è quello che è prodotto in Texas fondamentalmente Il CL, il crude oil è quello che è prodotto in linea generale in America Ma il grafico è lo stesso Cioè non cambia fondamentalmente nulla Fanno parte delle materie prime energetiche Perché ricordiamo che le materie prime sono di svariata natura Possono essere agricole, energetiche, metallifere Anche comunque di produzione animale E quindi ce ne sono veramente tantissime In America sono trattate un po' di tutto Ecco in linea generale Passando quindi a quelle che sono le regole operative Questa è la stessa slide dell'altra volta E la ripetiamo per chi magari l'altra volta Non ha potuto seguire la tecnica sul cambio sterlina yen L'entrata fondamentalmente Scusa se ti interrompo Tu segui le stesse regole operative dell'altra volta Allora le stesse regole no La stessa impostazione operativa Le regole cambiano leggermente Lo vediamo nel prossimo webinar Fondamentalmente che andiamo a spiegare proprio Nello specifico la strategia Ok perché nel prossimo non so se poi abbiamo il tempo di rivedere il tutto Perché dobbiamo rivedere anche le operazioni che ho fatto sulla sterlina yen E anche poi sul WTI Ma guarda è una slide Comunque non penso che ci siano problemi Penso veramente si fa con dieci minuti Eh perché se la fai vedere anche adesso se riesci è meglio Va bene va bene Allora Però anche i chat che vogliono vedere la strategia Va bene va bene Allora intanto facciamo questo piccolo riepilogo Comunque l'entrata è su pattern Come l'altra volta Ricordate che l'altra volta l'entrata era su un pattern Formato da un Donchanchan In questo caso invece è un semplice pattern di breakout Ovviamente ci deve essere quello che è il filtro dell'indicatore Quindi io utilizzo l'accoppiata super trend, half trend Poi chi magari ne vuole utilizzare uno solo O entrambi insomma O cambiare anche l'indicatore Perché magari non gli piacciono questi E scopre che c'è un altro indicatore Scusate transfollowing Che comunque è migliore E ben venga insomma Non è assolutamente standardizzata la cosa Cioè si può sempre cambiare Ho un filtro orario per l'ingresso E ovviamente il money management Per stabilire la posizione Lo stop loss è lo stesso discorso Insomma per quanto riguarda l'uscita Abbiamo uno stop loss che può essere Sia di natura quantitativa Che di natura oraria Abbiamo il target price Quindi lo stop loss in caso di Quando va male il trade Insomma quindi quando andiamo in perdita Il target price invece è il prezzo di uscita Quando siamo in guadagno Anche qui può essere o di natura oraria O di natura quantitativa Ovviamente ci potrebbe Potremmo anche unire Quello che potrebbe essere Un filtro di un indicatore E appunto come già abbiamo detto Un orario per cui decidere Della chiusura Di tutti i trade che abbiamo aperti Questa fa sempre parte insomma Della strategia Ve la ripropongo sempre Quella che è l'equity line Prodotta da questa strategia Questa qua ovviamente riguarda Sia la tecnica forex Che la tecnica VTI Ovviamente questi sono i contatti E andiamo a vedere direttamente Quello che è Quello che avevo diciamo impostato Per il prossimo webinar Magari lo utilizziamo semplicemente Per fare un riepilogo Allora a differenza da quella che era La tecnica sul forex Il time frame Non è più a 15 minuti Come avevamo deciso Per il forex In questo caso guardiamo Un time frame orario Ovviamente perché questo? Perché nel Nel VTI C'è un movimento Che sul Sui time frame Bassi 5 minuti 15 minuti È piuttosto casuale E quindi È un andamento Molto di rumore Sul time frame orario C'è una linearità Maggiore E i ritracciamenti Sono più Gestibili E ovviamente Che cosa Andiamo a fare? Andiamo a lavorare Su quello che è Un breakout Dopo le 15 E adesso spieghiamo Il motivo per cui Sono le 15 E non è un altro orario Tutto è legato Fondamentalmente All'orario di contrattazione Del mercato americano Perché abbiamo appena detto Che questa materia prima È scambiata Sul CME Di Chicago E il CME Di Chicago Apre ufficialmente Alle 15 E 30 C'è una preapertura Alle 14 E 30 Dove Bene o male Già lì Si cominciano a sviluppare Dei volumi Tra le 14 Le 14 E 30 Comunque Ci sono dei movimenti Interessanti Ma a sottostante Ancora chiuso Quindi Noi alle 15 Orario italiano Andiamo a osservare Se ci sono dei breakout Ovvero Dico Veramente Molto semplice Guardate Io ogni volta Che nelle mie coaching Private O nella prima volta Che ho mostrato In pubblico Questa tecnica Che l'ho fatto In tv Sulle fonti E all'investing Napoli È veramente qualcosa Di molto semplice C'è della gente Spesso che mi diceva Marco Ma veramente È tutto qua Perché magari Molti Erano abituati A infilare 30.000 indicatori Prendere posizioni In base agli indicatori O comunque De casi A A fare cose Molto più Complesse E io invece Sono sempre Stato a favore Di quella che è La semplicità E la semplificazione Della tecnica Semplicemente Data Una candela Che si è chiusa Alle 14 E 59 Minuti Perché alle 15 Si apre già La candela oraria Successiva Dalle ore 15 In poi Io vado a cercare Il primo Breakout Utile Che cosa vuol dire Che non vado a creare Come sul forex Un don't chain channel Il don't chain channel Che vado a creare Si crea sul massimo E sul minimo Della candela Delle 14 In poche parole Sull'ultima candela Che chiude Se la candela Delle 15 Durante La sua orario Di contrattazione Quindi tra le 15 E le 15 E 59 Va a fare Un breakout Del massimo O del minimo Della candela Precedente Quindi quella Che è aperto Alle 14 E chiuso Alle 14 E 59 Io prendo Una posizione A rialzo Se fa il breakout Del massimo O a ribasso Se fa un breakout Del minimo Ovviamente Se la candela Delle 15 Entro le 15 E 59 Non fa nessun breakout Perché rimane Inside Alla candela Delle 14 Passo Alla candela Successiva E quindi Vado a osservare La candela Che apre Alle 16 E chiude Alle 16 E 59 Questo giochetto Lo vado ad osservare Fino Alle 18 Quindi Alla candela Che apre Alle 17 E chiude Alle 17 E 59 Quindi Ho tre candele Marco Sì? No scusa se ti interrovo Allora sulla slide C'è scritto Sterlina Yen Credo sia Un Aspetta che lo cambiamo subito È sul petrolio Marco riesci a spostarti sul grafico Magari a farci vedere qualche esempio Sulla piattaforma Certo Allora Eccoci qua Allora Vti Vedete come Ecco Vediamo l'esempio di oggi La piattaforma di TicMill è un'ora macchia Rispetto a quella italiana Ma guarda che questo qui è perfetto Perché oggi c'è stato un mega gain Quindi Andiamo a guardare Oggi era facile Diciamo Allora Noi siamo Abbiamo detto che siamo Alle 15 Orario italiano Le 15 orario italiano Sarebbe la candela delle 16 Allora Noi vediamo che Alle 14 Precise Che in questa candela Ci dice che sono le 15 Ma sappiamo che TicMill Ha un fuso orario Di un'ora avanti Quindi qua leggete 15 Ma in realtà Questa è la candela Che hai aperto Alle 14 E ha chiuso Alle 14 59 E ha fatto questa candela qui Che se non erro In analisi tecnica Si chiama una doggi Ovvero una candela Che apre e chiude Con un body Centrale Molto piccolo E al centro Diciamo Del range Poi dopodiché Che cosa succede Alle 15 Orario italiano La candela Ovviamente Dove ha chiuso Quella delle 14 Più o meno Riapre Quella delle 15 Mano a mano Durante la contrattazione Di questo Di questo orario Succede che va a breccare Il massimo Bene Tornando un attimino Sulla slide precedente Abbiamo detto Che è un pattern Di breakout Andiamo Long Sopra I massimi O andiamo Short Sotto I minimi Del breakout Della candela precedente In questo caso È avvenuto subito Il breakout Ovviamente Poteva anche succedere Che questa candela Rimaneva inside E si slittava La candela successiva Abbiamo detto Che osserviamo Massimo Tre candele Quindi O quella delle 15 O quella delle 16 O quella delle 17 Se entro La candela Le 17 Non è avvenuto Il breakout Noi chiudiamo La piattaforma Per quanto riguarda Questa tecnica E ci rivediamo Il giorno dopo Se invece Avviene il breakout Entro queste prime Tre candele Dobbiamo fare Un'ulteriore verifica E ovvero L'ulteriore verifica Che dobbiamo fare È quella Semplicemente Di avere Half trend E super trend Entrambi a favore Che vuol dire Che se io andrò Long Soltanto Se Avrò il breakout Del massimo E avrò L'alf trend E il super trend Entrambi verdi In questo caso Ovviamente Era facile Entriamo tranquillamente Al rialzo Sul breakout Ovviamente Non consiglio mai Di entrare Proprio sul tick Preciso Ma per un discorso Di spread Che in questa piattaforma Ovviamente Con tickmill È di 4 tick Quindi vi consiglio Sempre magari Di lasciarvi Uno slippage Di entrata Di almeno 5 tick Insomma In modo da Entrare comodi Tanto non sono I 5 tick Che ci fanno La differenza Insomma Perché come potete Vedere Adesso vi Mostrerò Come calcolare Il target Quindi abbiamo detto L'entrata Entrata In breakout Dopo le 15 Il primo breakout Che avviene Se Breakout Dei massimi Se abbiamo Half trend E super trend Entrambi di colore verde Breakout Dei minimi Se Half trend E super trend Sono entrambi Di colore rosso Dopo le 15 Fino a massimo Le 17.59 Io utilizzo Sempre Un money management Compreso Tra mezzo punto Percentuale E un punto percentuale Quella discrezione Insomma Del rischio Che ognuno Si vuole accollare Dopodiché Andiamo a fare Per quanto riguarda La Diciamo Il posizionamento Del trade Io entro sempre Solitamente Con due lotti Perché Il primo lotto Lo chiudo Con Un target Quantitativo Quindi ho Stop loss E target Price Di rischio Rendimento Pari 1 A 1 Ed è dettato Dall'ATR Mi vado a calcolare Sull'ultima candela chiusa Che è ovvero Quella delle 14 Che chiude Alle 14.59 Mi dà fondamentalmente Un valore Massimo Della TR Di 33 Punti E 50 Quindi Nel momento in cui Mi fa un breakout Io vado Long Di 33 Punti E 50 Che praticamente Corrisponde Alla chiusura Della candela Successiva E questo È il primo lotto Che io vado a chiudere Il secondo lotto Che io fondamentalmente Metto in essere Lo chiudo Con un target Orario E O meglio Qui ho sbagliato Perché è tra È un Oddio Ho combinato Allora Qua Avevo il blocco Numero Attivo È tra le 19 E le 21 Quindi che cosa Vuol dire Che il secondo lotto Stabilisco Di chiuderlo Tra le 19 Di sera E le 21 Di sera Vediamo In che base Scelgo Questa Questa scelta Se Mi passaggio Dovresti chiuderla Adesso Sono le 19 Giusto E no È già stata chiusa L'ho chiusa 22 minuti fa No Dico potenzialmente Trebbe chiusa Ok Esatto Ti spiego il perché C'è questa discrezionalità Tra le 19 E le 21 La discrezionalità È data dal fatto Che dalle 19 Alle 21 È aperta Solo l'America Non ci sono altri Mercati Aperti Quindi Siamo bene o male In una situazione Di sottostante Aperto La chiusura ufficiale È alle 22 Quindi comunque Dei casi Io evito sempre Di mandare Overnight Le posizioni Che acquisisco In intraday Perché se io devo Operare in overnight Vado su un grafico Che mi permette Di operare in overnight Quindi dal H4 O daily A salire Quando prendo Posizioni in H1 Per me È un'operatività Di natura Intraday Quindi Apro la posizione Oggi E entro La chiusura ufficiale Dei mercati La posizione La chiudo Quindi non vado Overnight Sulle posizioni Intraday Quando è che la chiusura Ufficiale Alle 22 Non aspetto Alle 22 Perché le asse Di chiusura Spesso si fanno Delle movimentazioni Piuttosto Sporche Perché comunque Ci sono magari Gli speculatori Che prendono Beneficio Ci sono i commercial Invece che approfittano Di prendere posizione Perché ricordiamoci Sempre che i grossi Speculatori Fanno sempre Da controparte I grandi commercial E noi piccolini Ben o male Ci scontriamo Tra di noi Per un discorso Di liquidità In generale Non succede mai Che Un retail Ha Diciamo La forza economica Almeno che non sei Soros Insomma Che riesci Ben o male A comprare La posizione Di un commercial O di un O di un istituzionale O di uno spulcoratore Di Che sia un fondo Ecco In generale Quindi Dobbiamo renderci conto Anche di questo Quindi La discrezionalità Per la quale Io decido Se chiudere Alle 19 O alle 21 Se ci sono state Esplosioni Volatili Quindi candele Direzionali Che hanno aperto Sui minimi E chiuso Sui massimi Di candela Durante Quest'orario In questo caso Ce ne sono state Ben due Quindi A me Chi me lo fa fare Di tenere la posizione Aperta Fino alle 21 Perché a mio avviso Il mercato Ha sparato Su queste tre candele Qua E non ha fatto Più nient'altro Quindi io Alle 19 Dove sta Sta Non me ne frega niente Che magari Può salire Ancora leggermente Chiudo Magari mi perdo Qualche punto Ma non me ne frega niente Infatti La prima candela Distorno Guardate caso Sta venendo Proprio in questo momento Non è un caso Perché questo Sfrutta Questa tecnica Sfrutta Un bias Di mercato Perché è un bias Che si sviluppa Per ragione Di logica Per quanto riguarda Gli orari Di apertura E di chiusura Perché assolutamente Non troverete Quasi mai Che il petrolio Ti fa 100 punti In salita Durante la notte Perché è chiuso C'è un sottostante Chiuso Così È raro Che capito Al mattino Lo farà Sempre Al 70% Dei casi Come dicevo Poc'anzi Durante L'orario Di apertura Ufficiale Ecco perché Bisogna sfruttarli Questi bias Che questi mercati Danno Cosa che il forex Non ha Assolutamente Perché comunque Non ha degli orari Ufficiali Non ha comunque Dei casi Delle Situazioni Ripetitive Sul lungo Periodo Mentre Questo mercato Finché gli orari Di contrattazione Restano Ufficiali Restano Questi Sarà sempre Solo così Ecco perché Spesso e volentieri Magari vi trovate Da Diversi Trader Colleghi Formatori Che comunque Trattano molto bene Le materie prime Delle equity line Che hanno storici Di 20-30 anni Abbastanza stabili Proprio perché Comunque Dei casi Sono 20-30 anni Che questi mercati Si comportano In questo Modo E quindi Ecco spiegato Bene o male Quello che è Il bias Di mercato E Ovviamente Ecco infatti Quindi concludo Dicendo che La prima operazione L'aiuto Di natura Quantitativa Con la TR E Mi sono dimenticato Di dirlo Che la TR È impostata A due periodi La seconda La seconda Operazione La Chiudo Oraria A discrezione Mia Insomma Di Osservare Un pochettino La volatilità Oraria O tra le 19 O alle 21 E basta Insomma Non c'è altro Da dire Anche perché Come potete Vedere La struttura Come vi dicevo È uguale A quella Precedente L'unica cosa Che cambia Il grafico Sottostante E ovviamente L'impostazione Che è oraria Invece che essere A 15 minuti E il breakout Non è di Di un Don't Channel Ma è un breakout Di Di candela Ecco Dimmi pure le domande Giuseppe Sì Allora Una hai risposto Tu sul discorso Della TR Che mi chiedevano in chat Quale fosse appunto Il periodo L'altra è Che Tu quindi Hai detto Che apri Con due operazioni Due lotti Giusto Una volta Che chiudi La prima operazione Per via dell'ATR La seconda Poi la metti A pari Oppure La chiudi Solo In chiusura Di orario No Non Non Utilizzo Mai Il training Stop E non Utilizzo Nemmeno Quello Che viene Un gergo Chiamato Stop loss A break Nel momento In cui L'operazione Va in guadagno E ve l'ho spiegato Prima il motivo Perché comunque Dei casi Il petrolio Ha dei ritracciamenti Piuttosto interessanti Lasciate perde Oggi Che come si dice È la giornata Fortunata Di questa tecnica E anche la mia Perché oggi Sono stati Insomma Contabilizziamo Subito i guadagni Insomma Perché non ho L'altra Se chiudo questo Di conto Non posso aprire L'altro Insomma Quindi Non vi faccio vedere L'operazione In real time Perché Ci metterei Troppo tempo Insomma Comunque Dei casi Parliamo Di 33 punti Dati 34 Quelli che dà La TR Sul Target Quantitativo E parliamo Di 150 punti Dati Dal target Orario Per un totale Di 183 punti Ovviamente Questo genere Di tecnica Spesso e volentieri Il venerdì Con l'amico Rocca Salvo Che saluto sempre Ci siamo divertiti A mostrarvela Più volte E vedere Anche in diretta Vi dico che Spesso e volentieri Riuscivo a prendere Target di 40 50 punti Sul petrolio In diretta TV E io ho uno spazio Insomma piccolo Di mezz'ora 25 minuti E riuscivamo Ben o male A non solo A spiegare la tecnica Ma anche A gustarci il guadagno In diretta Proprio perché In quell'oraio lì Entrava l'operazione E già si concludeva Insomma Almeno quella quantitativa Poi quell'oraria Continuava Fino Alle 19 Un'altra dimostrazione È stata datata Insomma all'investing Napoli Quindi in linea generale Chi mi segue Ormai penso Ne ha Come diciamo qua A Roma Le scatole piene Di sentirne di questa tecnica Perché comunque È una tecnica Che accade Piuttosto frequentemente Ripetendo in linea generale Riesca a fare Settimana Anche 4 trade A settimana Ovviamente Quando dice bene Quindi è risposta Anche all'altra domanda Che ci facevano Sulla Quante operazioni Si fanno a settimana E poi aggiungo E poi magari Chiudiamo anche il webinar Perché Questa volta Siamo molto Più corti Visto che comunque S'è stato molto operativo È spiegato perfettamente Già tutta la tecnica Questa poi In realtà Tu ci hai dato Due strategie Da utilizzare Sia Durante l'aportura Di Londra Con la strategia Della sterlina Sullo yen Visto che comunque La fascia oraria È dalle 9 alle 11 Poi Si fa un break Magari si va anche a pranzo Quindi ci si rilassa un po' E poi il pomeriggio Si cambia strumento E quindi Si va a negoziare Sul WTI Quindi Sono Due fasce orarie Che non ho Ovviamente Non contrastano Tra loro E quindi Chi poi ovviamente Apprezzerà Le qualità Di questo tipo Di strategia Che è molto semplice Immediata Anche quella Quella della sterlina A yen È molto simile Quindi Sono molto simili Tra loro Sicuramente Quello che apprezzo Io poi Da trader È il fatto Di non Spaccarsi la testa Con regole Astruse Quindi Trovare cose Molto semplici E lavorare su un breakout Perché come hai detto Tu c'è un bias Che va sfruttato In quell'orario Lì Marco Altre due domande Da parte dei Sì no no Aggiungi pure Poi ti Guarda Voglio mostrare Anche lo short Insomma In linea generale Guardate qui Donale direzionale Stai rispondendo Stai rispondendo da solo Alle domande Ok Volevo vedere Un esempio Alla Questo è qua Praticamente Alle 14 Qua aperto Qua chiuso Alle 14 59 Alle 15 Apre qui Come potete vedere Spesso e volentieri Quasi sempre In concomitanza Dove ha chiuso la precedente Torna un po' indietro C'è il breakout Dei minimi Come al solito Vi dico sempre Cercate di Non posizionarvi Sul livello Il cui ci dava 32 punti L'ATR Quindi 32 punti E qua A metà di questa candela Quindi Questa sicuramente Sarà una di quelle Operazioni veloci Che vi dicevo prima Che in 5-10 minuti Riuscite a fare Quasi un altro post scalping In linea generale Perché becca proprio L'esplosione volatile Insomma In generale E poi Dopodiché Aspettate che ho fatto un casino Dopodiché Qui c'è il breakout Alle 19 Quindi questa qua È la candela Delle 15 Delle 16 17 18 19 E qua Si facevano 150 punti di guadagno Anche qui Quindi pure qua Erano altri 180 tick Che facevate Con uno stoppetto Insomma Di 33 tick Insomma C'è veramente Una cavolata In generale Quindi rispetto C'è Ci stanno rischi Rendimento Da Da 1 a 5 Insomma Quindi è Veramente Un qualcosa Di Stupefacente A mio avviso Hai detto Di non seguire In training stop Hai detto di non seguire In training stop Ma consiglieresti Comunque Di utilizzare Cos'è Quella Un half trend Come indicatore Di trailing Allora Sì Nel senso Non come indicatore Di trailing No Provatelo Che chissà Programmare Tutto quanto Provate Qualsiasi cosa Vi viene In testa Provatelo Io non sono Colui Che sa Io sono Soltanto Colui Che prova E si Applica È normale Che se Andate dopo A programmarvi La vostra Strategia Andate a vedere Che ci sono Dei filtri Senza Overfittare Ovviamente La strategia Trovate dei filtri Migliori Che mettendo Un training stop Dato da un indicatore Da una media Da quello che volete Insomma In generale Si ottimizzano I parametri Ben venga Io sinceramente Non Per un puro discorso Di overfitting Non preferisco Non Diciamo Introdurre altri filtri L'unica cosa Che vi posso dire Se magari Volete Lasciare Ampio respiro Alla posizione Invece Che impostare Uno stop Loss Di natura Dell'ATR Ovvero Statico Lasciatelo Magari Sul tetto Del super trend Magari Utilizzate Quindi Il cambio Questo mi piace Di più Io credo Che Adesso Che proverò Sperando Che ci siano Delle occasioni Per il prossimo Appuntamento Proverò Questo tipo Di strategia Nel senso Che Entrare Come hai detto Tu Con uno stop Utilizzando Il super trend E rispondendo Comunque Le domande Sono comunque Indicatori Che Marco Questi sono Tuoi proprietari Oppure Si trovano Comunque In internet Allora Lasciamo Lo stesso discorso Dell'altra volta Allora Questi indicatori Si riescono Tranquillamente A trovare Io Li ho Personalizzati Quindi Hanno Delle leggere Differenze Per chi Li vuole Li posso dare Gratuitamente In cambio Insomma Dell'apertura Di un conto Tickmill Con il mio Il mio link Insomma Che ho già Messo in chat Se non sbaglio Poi Casomai Controlla Giuseppe Se è arrivato Se non tanto Lo Rispondo Anche Alla domanda Sullo Sconto Commissionale Che Con l'apertura Si avrà Poi il 5% Di sconto Commissionale Se Appunto Lo aprite Con Marco Comunque Gli indicatori Li trovate Anche internet Gratuitamente Se poi Volete Quelli Personalizzati Da Marco Contattatelo E chiedete Direttamente A lui Non a me Perché io Ovviamente Mi occupo Solo Del broker Allora Marco Io vedo Ci sono Appunto I miei contatti Quello che è La mail Quello che è Skype Insomma Scrivete Questo è sempre Il link Scrivetemi Se magari Li gradite Insomma Ve li Mando Tranquillamente Insomma Non c'è Nessun Problema E E basta Insomma Quindi direi che Ben o male Abbiamo già spiegato Quella che è La La prassi Insomma Della strategia Magari la prossima volta Delle altre operazioni Riusciamo anche a fare Un commento finale Ecco Esatto Esatto La prossima volta Commenteremo comunque Tutte le operazioni fatte Quindi Sarà molto interessante Perché Io farò l'alunno E quindi Tu Il maestro Marco In base Un po' Mi bacchetterai Sugli errori Che magari Ho commesso E Rispondo solo Alla domanda Di Gabriele Che mi chiedeva Se Magari Rispondi tu Marco Ma molto brevemente Se è il caso Di mettere Un Buy stop O un sell stop Sul massimo E il minimo Posto della candela H1 H1 Secondo me no Perché poi Invece sì Secondo me sì Io ti dico Spesso Anche se si va Contro Contro il super trend No No Allora Allora Nel momento in cui Chiude la candela Delle 14 Quindi alle 14 e 59 Chiude la candela Voi avete già i livelli Quindi In quel caso Se voi Già vedete Che c'è il super trend Che è lontano La trend è lontano Quindi non saranno Soggetti a cambio colore Potete Quindi magari Sono entrambi verdi Già Potete già mettere Un buy stop In quel caso lì È normale Che se avete Un super trend rosso Un alt trend verde Non c'è concomitanza Magari il prezzo È vicino agli indicatori Quindi in quel momento È soggetto a un cambio colore È normale Che lì Non ha senso Mettere il buy stop L'ordine pendente Io lo utilizzo Nel momento in cui Già alle 14 Abbiamo un quadro Palese Della situazione Ma se il quadro Invece è piuttosto Confusionario Perché proprio Il prezzo è vicino Agli indicatori E quindi è soggetto A cambio colore In quel caso Mettere dei pendenti Non ha senso È meglio utilizzare Gli ordini A mercato Ecco Ok Ok Un'ultima domanda Se è il caso Di mettere lo stop loss Sotto il massimo Il minimo Della candela Cioè Assolutamente Della tier Assolutamente no Utilizzate Sempre parametri Quantitativi Non utilizzate Parametri grafici I grafici Sono fatti Per essere Per creare illusioni Mentre i parametri Quantitativi La matematica O quello che comunque Dei casi genera Dei numeri Comunque delle statistiche Non sono opinionabili Quindi dico Io non metto mai Stop loss O quasi mai Stop loss Sulle candele Li metto sempre O in relazione Alla volatilità Quindi magari Mi faccio aiutare Da un indicatore Di volatilità O comunque dei casi In base a dei parametri Matematico statistici Che quelli A mio avviso Non sbagliano mai Ovviamente È un mio credo Non è assolutamente Quello che è il santo graal Ve lo dico È un'ottima tecnica C'è profittabilità Ma ci sono pure gli stop Quindi utilizzate sempre Gli strumenti Che vi vengono dati Con parsimonia Ok allora Adesso rispondo alla domanda Di Marco Sulla metà Trader 5 Sta arrivando Arriverà a breve Lo so L'ho detto già L'altra volta Però Adesso siamo un po' Impegnati con l'ESMA Quindi sta un po' Impegnando tutto Il nostro IT E quindi Ha un po' Diciamo Questo ritardato Il lancio Della metà Trader 5 Però comunque arriverà A breve Credo Entro un mese massimo Spero che entro agosto Possiate comunque Almeno provare La demo In Metà Trader 5 La presentiamo Allora Giuseppe Magari sì Sì vediamo Vediamo un po' Non mi piace fare promesse Però purtroppo Lo so di averlo detto Già nei precedenti webinar Che avremo lanciato La metà trader 5 A breve Però purtroppo La Lo so Infatti Non si fanno promesse Però l'ESMA Purtroppo è È la priorità assoluta E quindi Per questo Al momento Ancora non l'abbiamo lanciata Allora Il prossimo appuntamento Quindi al Il 2 luglio Vedremo Quindi chi si è iscritto Già comunque Potrà vederlo Potrà vedere Il webinar Quindi non c'è bisogno Di riscriversi E vedremo appunto Tutti i trade Che ho fatto io Con Con Marco Che poi mi dirà Se Diciamo Ho seguito la regola Oppure No Grazie a tutti Per aver Visto Questo webinar Invierò la registrazione A tutti In via email Assolutamente E ci vediamo Quindi il 2 luglio Grazie Marco Grazie a te Giuseppe A presto Grazie Buon training A tutti Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te